Una conferenza stampa convocata per rispondere alle accuse mosse da qualcuno sui social, il direttore sportivo del Foggia, Pier Giuseppe Sapio, non ci sta e in compagnia del suo avvocato, il legale Cristian Spinelli, annuncia di aver presentato denuncia all'autorità giudiziaria. Il dirigente rossonero respinge al mittente quanto affermato su Facebook relativamente a presunte anomalie nel settore giovanile. Nulla di più falso ha dettato ai cronisti Sapio che è intenzionato ad andare fino in fondo alla questione. Io ho indetto questa conferenza stampa per chiarire alcuni aspetti che ultimamente hanno riguardato la mia persona e mi riferisco in particolare alle notizie lesive della mia immagine e anche sulla società pubblicata in rete. In relazione a questo ho provveduto a tutelare la mia persona nelle sedie opportune, quindi c'è qui il mio avvocato che così vi spiegherà un po' la situazione. Grazie. Sì, come diceva il direttore, la mia presenza qui è determinata esclusivamente dalla necessità di rappresentare quelle che sono state le azioni poste in essere a tutela dell'immagine del direttore Sapio. Immagine che evidentemente è stata fortemente lesa da una serie di post che sono stati pubblicati e voi sicuramente ne avrete avuto in qualche modo notizia. Post che avevano e hanno una portata fortemente offensiva perché in questi post altro non si è fatto che attribuire al direttore Sapio una serie di condotte fortemente criticabili, opinabili, discutibili, oltre che una serie di epiteti e di frasi altamente offensive dell'onorabilità e del decoro del direttore Sapio. Di fronte a questi eventi che non rappresentano in alcun modo esercizio del diritto di critica, perché il diritto di critica non deve mai trasmodare ovviamente nelle offese e nella contumelia, nel caso di specie c'è stato evidentemente una vera e propria contumelia ai danni del direttore Sapio, contumelia come detto fatta sia di parole offensive ma sia di accuse gravi che riguardano la condotta, la moralità del direttore Sapio. In ragione di ciò siamo arrivati ad un punto della vicenda che non era più possibile assumere un atteggiamento di tolleranza e abbiamo dovuto procedere con una proposizione di una denuncia a querela, denuncia a querela volta a colpire tutti coloro che in questo caso si sono macchiati di condotte antigiuridiche. Abbiamo ritenuto opportuno attenzionare l'autorità giudiziaria perché queste condotte offendono il direttore Sapio come uomo, offendono il direttore Sapio come tesserato del Foggia, offendono il direttore Sapio come tesserato FIGC, offendono il Foggia, offendono anche i ragazzi del settore giovanile del Foggia. Io ho portato tutto l'elenco dei tesserati del Foggia, di tutti i settori giovanili, di tutti i giocatori che sono tutti tesserati del Foggia Calcio, tutti tesserati del Foggia Calcio perché altrimenti non potevano mai prendere parte al campionato e quindi i giocatori che giocano sono tesserati del Foggia Calcio. I giocatori che il Foggia Calcio cederà ai club di A o di B perché ne cederà più di qualcuno, i soldi verranno incassati dal Foggia Calcio e non dalle mie società, i soldi vengono intascati dal Foggia Calcio. La società del Foggia Calcio è una società solida, tanti dicono che ogni mese dobbiamo fallire, negli ultimi due mesi il Presidente ha messo 842 mila euro per pagare i contributi e gli stipendi di gennaio e febbraio. Quindi non voglio che Sapio ha detto i libri in tribunale se non andiamo in serie B. La gestione della società è una gestione seria, una gestione oculata, l'ha dimostrato anche il mercato fatto a gennaio dove non abbiamo voluto fare spese folli ma abbiamo voluto mantenere un equilibrio economico che è quello che è nelle nostre possibilità, pur rinforzando la rosa con i giocatori che per me sono importanti. Grazie a tutti.